Si svolgerà sabato 20 ottobre alle ore 17 presso la Sala Conveni del Museo Diocesano di Salerno la cerimonia Schegge di Oratorio, organizzata da ANSPI Comitato Zonale di Salerno. L'appuntamento chiude i festeggiamenti dei 50 anni dello zonale e lancia l'inizio delle attività per il nuovo anno associativo. Vari saranno i momenti che si alterneranno nel corso della serata e vari gli ospiti. A cominciare dal convegno parliamo di oratorio, dalle esperienze alle scelte. Un identikit dell'oratorio ieri, oggi e domani, una proposta educativa per le generazioni future con la partecipazione di Don Riccardo Pascolini, presidente del Forum degli Oratori Italiani. A seguire la presentazione delle attività promosse da ANSPI Salerno per l'anno 2018-2019 in accordo con il piano pastorale della Diocesi e la presentazione del sussidio invernale ANSPI dedicato alla figura di Papa Paolo VI. A chiudere 50 anni ANSPI Salerno con la consegna delle benemerenze a coloro che nei 50 anni hanno dato lustro ad ANSPI Salerno.